Sindaco Cicchitti oggi a Rocca San Giovanni, proiezione davanti al pubblico del film Ambo con la tessa protagonista. A conti fatti questa esperienza è stata positiva per far conoscere il nostro territorio, è da ripetere oppure se ne è un po' pentito? Io penso che una cosa del genere non può che essere motivo di una ripetizione. Io penso che stiamo su tutte le sale cinematografiche nazionali e devo ringraziare Pierluigi Di Lallo il quale ha scelto la nostra città di Atezza come cittadina principale per girare questo film. Poi con l'abbinamento con la costa di Trabocchi io credo che sia la strada per valorizzare il nostro territorio, per riaprire il nostro Abruzzo, la nostra provincia, la nostra costa di Trabocchi, il nostro entroterra del Sangro, al turismo, quel turismo che da anni aspettiamo. Ecco io faccio gli auguri a Pierluigi per una lunga e duratura carriera come regista ma non nascondo che è un auguri anche con un po' di egoismo perché Pierluigi è della nostra terra e come ha fatto già in questa circostanza non dimenticherà la nostra terra quindi io spero di tornare al più presto con la nostra città di Atezza, con il nostro territorio, sulle scene cinematografiche con un altro film. Quindi quello che abbiamo fatto, l'investimento del comune di Atezza che ritengo sia una modica cifra per quello che produrrà in futuro questo film io credo che si possa ripetere in quei termini e quindi mettere in modo quel processo che del resto ha reso tante realtà del territorio nazionale i celbri proprio attraverso i film. Quindi ecco, di nuovo grazie a Pierluigi e egoisticamente rinnovo gli auguri per una lunga e veramente una bella carriera da regista senza dimenticare il nostro territorio. Ormai siamo di famiglia Riccardo. Ormai siamo di famiglia. A Roma, in Abruzzo, in Abruzzo e a Roma, adesso di nuovo in Abruzzo, a Lanciano per salutare gli amici di Lanciano e dell'Abruzzo per il film che abbiamo girato qui, Ambo. Mi raccomando non girare più in mutande a Santa Croce però eh? Eh lo so, lo so, purtroppo ormai anni e anni di teatro vengo riconosciuto per quello delle mutande però va bene, per il pubblico si fa questo ed altro quindi l'importante è che andate a vedere il film perché è un film girato nella vostra terra, una terra, come dire, gentile, forte, coraggiosa quindi andando a vedere questo film aiutate anche la vostra terra perché grazie al cinema che si fanno conoscere i vostri stupendi posti. Basta pensare alla costa di Trabocchi, l'entroterra, la maiella e la cucina favolosa dell'Abruzzo. Che dire di più? Cioè, è Ambo, diciamo, è un lancio per questo. Che cosa farai adesso? Ti devo lasciare un posto a casa mia o ritorni subito dalle tue parti? No, ma se mangia? Eh no, forse no. Allora torna a Roma, torna a Roma, torna a Roma perché no, torna a Roma dalla mia famiglia che sono anche un po' stanco e che dire, veramente, ormai siamo di casa quindi un appello, un appello all'Abruzzo, andate a vedere Ambo, non perché l'ho fatto io ma perché è un film veramente delicato, sincero, pulito per le famiglie si ride, ci si commuove, pulito, veramente pulito, a parte le mutande sono pulito le mutande, sono pulito le mutande però Enrico Papio oggi, dopo esserci visti a Roma, sei tornato dalle nostre parti per promuovere questo film sono venuto, capito? Sono venuto a vedere come vi comportate, tutto bene? Hai visto il film? Sì, ma l'avevo visto già a Roma, quindi... Hai già visto? Eh sì, ma mancava la scena della messa, quella a Roma non l'ho vista Comunque io vi consiglio di andare a vedere questo film, no, ve lo dico perché è un film davvero per tutta la famiglia è un film che vale bene per la mamma, per il papà, per il bambino, per il nipote, per la nonna, per tutti quanti passate veramente due ore spensierate e con un film leggero, divertente un film che non ha nulla, nulla, ma nulla da dire, non andatelo a vedere ha veramente tutto, tutto per essere un film giusto per regalarvi una serata spensierata quindi ve lo consiglio veramente, non perché io ho fatto questo cameo all'interno del film ma proprio perché è un film leggero, spensierato, ecco Papi nella versione prete, non sfigura, può esserci una nuova versione Don Matteo, chissà No, non lo so, questa è stata un'esperienza divertente, mi sono divertito soprattutto nel partecipare ad un film che è un film corale dove tutti abbiamo un po' dato, chi più chi meno, proprio contributo è un film che non pretende nulla, è un film che è sincero ecco, è una storia molto sincera, è una storia anche divertente in alcuni punti con un finale che va visto, quindi non lo svelo, è un finale curioso con un cast di amici, ci siamo divertiti tantissimo l'abbiamo girato qui in Abruzzo, una terra cortese, gentile, forte io sono un po' abruzzese, mia mamma è abruzzese e quindi devo dire che il connubio Abruzzo, il cast e la storia è un connubio fantastico La premiata ditta Pellegrini di Lallo si riconferma anche in terra abruzzese Sì, Ambo, Ambo, Ambo Oggi c'è stata la prima davanti al tuo pubblico, Pierluigi Sì, c'è stata la prima qua a Ciac City di Rocca San Giovanni abbiamo fatto un'anteprima e il 3 a Roma con un successo pazzesco che non ci aspettavo né io e né Enzo perché è stato vicino a me sempre, anche a Roma lo volevo fortemente questo e ieri è partito Ambo in tutte le salite, in 200 sale d'Italia e non voglio dire nulla per scaramanzia il film è tenero, è romantico, in alcuni punti tocca e ti fa anche riflettere c'è un finale che non posso dire è stato un progetto faticoso, molto faticoso devo ringraziare ancora oggi comunque il Comune di Atessa ma non perché devo fare svelinato in retorica perché c'è stato un impegno paziente c'è stata credibilità in qualsiasi cosa si faceva e quindi speriamo bene Un'esperienza che diciamo più volte da ripetere anche perché la promozione di questo film è stata fatta anche su canali nazionali quindi di Atessa si è parlato anche a livello non solo abruzzese Enzo Sì, io l'altra sera come diceva Pierluigi a Roma ho visto tutte le persone che vedevano, che hanno visto il film e che uscivano avevano un solo commento prioritariamente e quello che praticamente hanno apprezzato e apprezzano proprio le nostre location quindi le scene dove sono state ambientate, come sono state girate ovviamente oltre al film e agli attori, al regista che hanno messo su questo progetto quindi io credo che sia un'esperienza per me positiva credo che avere una visibilità di questo livello su tutto il territorio nazionale sia qualcosa di importante, non solo per Atessa ma per tutta la nostra provincia la nostra provincia di Chiedi che ha molti aspetti positivi su cui bisogna puntare e bisogna valorizzarli inutile che ce lo raccontiamo sempre tra di noi che le cose nostre sono belle e tutto il resto noi dobbiamo farlo conoscere a chi non c'è mai stato e dobbiamo soprattutto fargli venire a voglia di venire su queste zone questo è il nostro compito, almeno parlo come amministratore, come regista ovviamente ha altri compiti, però io credo che noi dobbiamo fare questo Per chiudere Pierluigi non abbiamo parlato dei tuoi impegni adesso sei concentrato su Ambo ma tu hai attività anche da attore, di teatro Sì, sto preparando una cosa di teatro e poi a febbraio partirò con la regia di Greg insieme a Riccardo Graziosi e a Lalo Circosta in tournée in tutta Italia, faremo anche il Sistina però volevo dire una cosa importante e mi volevo riallacciare a quello che diceva l'amico Enzo che l'Abruzzo non è soltanto la transumanza, la montagna c'è anche la costa, il mare, abbiamo delle zone cioè l'Abruzzo è ricca e poi siamo veramente a due passi da Roma però abbiamo bisogno di una forza, delle istituzioni che crede in questo adesso volevo dire una cosa importante che nella campagna anche in Puglia, in Basilicata in Basilicata nel 2015 partiranno tanta produzione, in Basilicata cioè l'Abruzzo è fortemente anche così quindi ci devono dare una mano, assolutamente so che c'è una grossa crisi, non cerchiamo economicamente nulla però cerchiamo l'appoggio delle istituzioni che è importantissimo oggi Quello di a testa non si farà mancare, se capiterà Assolutamente no, noi siamo disponibili valuteremo i nuovi progetti che arriveranno e sicuramente daremo, per quel che possiamo, sicuramente una mano in questo senso perché dobbiamo far capire a tutti gli italiani come diceva Pierluigi che l'Abruzzo non è solo pecore, transumanza e montagna ma ci sta ben a... E anche quello, perché per carità, ben venga anche la transumanza ma non è solo quello l'Abruzzo c'è l'Abruzzo, c'è il vino, c'ha gli odori, c'è tutto abbiamo una costa bellissima però molte volte c'è un ponte lì che si ferma lì ma qui non scende e questo è un meccanismo che bisogna anche capire tutto qui, senza fare polemica grazie